Scuola di ogni ordine grado chiusa o giallicata su ordinanza firmata ieri dal sindaco Angelo Balsamo a scopo cautelativo dopo l'incendio che nella notte tra sabato e domenica ha interessato il centro di stoccaggio di rifiuti della Omnia in contrada piano Bugiades. Si temeva che il vento potesse spingere verso la città la nube di fumo che si è generata a seguito del vasto incendio e che aveva portato già ieri la protezione civile a raccomandare di tenere chiuse le imposte. Le fiamme hanno interessato il deposito di rifiuti della ditta Omnia e si è resa necessaria anche la chiusura al transito veicolare del tratto di statale 115 a ridosso di contrada piano Bugiades. Sul posto hanno lavorato ieri per tutta la giornata sei squadre di vigili del fuoco, la polizia e la protezione civile. Anche stamattina si stanno effettuando ulteriori interventi di messa in sicurezza. Non appena abbiamo saputo della notizia siamo subito arrivati su luoghi vedendo la problematica. Ci siamo attivati anche con le nostre autobotti comunali, anche con delle autobotti private per far arrivare dell'acqua perché qua era principalmente quello il problema. Poi abbiamo visto che c'era anche una vasca internamente allo stabile e abbiamo preso dell'acqua con la nostra idrovora piazzata. C'è la Progivis che ci ha aiutato tutta la notizia a lavorare su questo campo. I vigili stanno facendo un po' di spazio tra lo stabile e questo materiale infiammato per distaccarlo e evitare che continui a eroveri con le fiamme. In effetti ho fatto lanciare questo messaggio perché è importante che non si respirasse direttamente questo fumo perché sicuramente non è idoneo per i nostri polmoni. Un episodio grave che ha portato anche la comunità ecclesiale di Licata ad intervenire stamattina per stigmatizzare il ripetersi dell'ennesimo gesto che ferisce il territorio. Comunità ecclesiale che ha voluto esprimere gratitudine alla polizia, carabinieri, protezione civile, vigili del fuoco e ai tanti volontari che da oltre 24 ore stanno lavorando per cercare di contenere i danni ambientali.